ciao a tutti bentornati al mio canale oggi con una nail art primaverile io vi lascio il tutorial è molto facile da realizzare e spero vi piaccia inizio proteggendo le mie unghie naturali e con una base trasparente e per le altre unghie ho scelto questi colore questo il risultato andrò utilizzare anche dei pennelli e dell'acrilico inizio a fare i miei fiorellini utilizzerò questo pennello piatto è molto facile come vedete soltanto devo far scorrere o traccinare un po il pennello per ricreare i petali aspetto che si acciuglia un po e lo capisco quando è opaco e vado a ripassare piano piano ogni singolo petalo poi con questo smalto giallo andrò a fare un puntino con l'aiuto del dotter e questo sarà il centro del mio fiore poi per le altre unghie ho pensato alcuni puntini così perché non volevo lasciarle così tutte monocolore e sigillo col top coat e la nail art è pronta ditemi ragazzi se vi è piaciuta questa idea io questa nail art la voglio dedicare ad hamburger telefono si da adesso in poi tutte le mie nail art saranno dedicati a una di voi vi mando tanti beciti al prossimo video tutorial ciao